La tendenza del computing, dell'informatica del futuro, una delle tendenze è il question answering, la capacità del computer di rispondere a domande, che è diverso dal cercare informazione, reperire documenti, perché c'è bisogno che la macchina faccia un ragionamento su una domanda fatta in linguaggio naturale e riesca a ragionare su dati non strutturati, cioè dati testuali, contenuti in documenti, in siti web, riuscendo a capire che cosa è contenuto nel testo a livello semantico. Questa è una frontiera, IBM ha ottenuto con Watson, con il sistema che ha battuto gli esseri umani a un gioco a quiz, che era il geoper degli Stati Uniti, ha ottenuto negli scorsi anni un salto di qualità nello stato dell'arte di questa disciplina, che sta diventando anche qualcosa di commerciale. Vediamo per esempio Apple 4, Siri, che è questo sistema di question answering integrato con l'iPhone. Abbiamo sistemi enterprise, che sono quelli che stiamo sviluppando in IBM per esempio il sistema sanitario, adesso è allo studio applicazioni in campo finanziario. Quindi questa è una frontiera che passa dalla ricerca sul linguaggio naturale, sull'elaborazione del linguaggio naturale al business. Ci sta passando in questi mesi e ce lo possiamo aspettare ancora di più nei prossimi anni.